Ci fa ben sperare il coraggio della squadra e la voglia di crederci fino alla fine. Il 2-1 di Monopoli e lo 0-0 casalingo contro il Crotone sono anche frutto del recupero di alcuni giocatori che erano scomparsi dai radar dei titolari, come nel caso di Orfei e Paolini, o di Innesti che sin qui non avevano praticamente mai trovato spazio. Castellano ha segnato il gol vittoria al Veneziani, Marino ha sostituito Capitana Arrigoni in mezzo al campo contro il Crotone senza farlo rimpiangere. Andrea Marino ha fatto una buona partita, al debutto per me non è una scoperta perché l'avevo già visto giocare, però ha buone qualità per potersi ritagliare uno spazio come tanti altri che finora anche non sono stati utilizzati, ma da adesso alla fine c'è bisogno di tutta l'energia e di tutti i ragazzi. Anche nell'impegno infrasettimanale gli innesti a gara in corso hanno detto la loro e se Mikovski avesse infilato Dini nell'ultima occasione della partita staremmo anche commentando un risultato diverso. Reinserire tutti nel progetto è il mantra di Cudini che negli ultimi 180 minuti di stagione ha riproposto il 4-3-3, marchio di fabbrica dell'estate per la sua Fidelis, modulo poi abbandonato nelle gestioni Dudu e Trocini in nome del 3-5-2. Questo è quello che un allenatore si aspetta sempre, mettere dentro gente che poi magari è fresca e dà il proprio contributo. In queste due partite sono molto contento di chi è subentrato. Lo 0-0 del Degli Olivi fa la somma con lo stesso risultato, rimediato 24 ore prima dalla Viterbesi in casa contro il Taranto, così la classifica nei piani bassi non è cambiata. La Fidelis resta ultima, meno uno dai laziali e proprio nel Lazio domenica si giocherà una partita cruciale per la corsa salvezza bianco-azzurra. Alle 14.30 sarà sfida al Monterosi, terz'ultimo a 32 punti, più 7 su Candellori e compagni, quando alla fine della regular season mancano appena 6 partite. C'è poco tempo, però come c'è per noi, c'è anche per le altre squadre, quindi mi preme che i ragazzi recuperino bene le energie, perché se riusciamo a mettere in campo quella intensità che abbiamo messo in queste due partite, credo che anche a Monterosi potremo fare la nostra partita contro un avversario di pari livello.